Ragazzi un saluto dal vostro amato amatissimo Bianconero, dopo 8-9 giorni di assenza su Youtube, ragazzi a me non piace proprio, basta, Bianconero basta, per favore riprendi a registrare ogni giorno in continuazione tanti tanti video, non so cosa sta succedendo però devo riprendere tutto a capo. Ragazzi la Juventus ha perso, ha perso in casa della Roma, l'Olimpico, 1-0, è giusto che sia stato così, primo tempo scandaloso sia da parte della Roma sia da parte della Juve, scandaloso, entrambe le squadre hanno giocato pochissimo, non hanno avuto chance da gol, un primo tempo veramente triste, triste, triste. Secondo tempo, la Roma cambia le sotti della partita e vince con il gol di Mancini, 1-0. E' la Juve che non ha toccato un pallone questa sera, perde tre punti, meritatamente, e Bianconero dice non tocchiamo mai il fondo. Certo, dopo la vittoria contro il Torino alla Lanza Stadium, 4-2, contro la Roma, la Juve di Allegri perde, va bene così. Ha vinto Mourinho, ha vinto Mourinho, i giallorossi hanno abbattuto meritatissimamente i bianconeri. Ragazzi, la Juventus non ha per niente giocato questa sera, la Juventus non era sceso in campo, ha giocato solamente la Roma, punto. Sa piattolo.